Buondi ragazzi, secondo video di giornata. Ho visto del panico nei commenti, del panico, e voglio condividere la mia visione sulle parole di Cristiano Giuntoli nel pre-partita, parole che hanno scatenato timori, paure, per i ragazzi non condivisibili, lo dico chiaro e tondo, sapete qual è la mia posizione, ma provo a darvi la mia chiave di lettura, non voglio vendervi alcuna verità assoluta, come la leggo io questa situazione. Quindi, parliamo insieme, voi intanto, vi prego di fare una cosa, ascoltatevelo tutto questo video e non perdetevi pezzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, e commentate poi, ditemi la vostra. Se vedete che faccio un po' fatica a parlare, è legato alla situazione ventosa che c'è qua a Brecelli, già non c'è mai vento, cazzo. E poi, primavera, allergia, una combo micidiale, quindi perdonatemi, ma soffro un po' di allergia ai pullini e mi taglia il fiato. Su Giuntoli, allora, io prendo in esame un thread fatto molto bene da Frank Gavatorta su Twitter, è un thread che condivido dalla A alla Z, persino le virgole, cioè per stato perfetto. Ha descritto perfettamente quel che penso io sulle parole di Cristiano Giuntoli nel pregara su Allegri. Cioè, lui inizia così, capisco che possa dare fastidio alla continua riconferma dell'allenatore da parte del direttore sportivo. Si prendano però le parole come sono in relazione alla situazione che viviamo. Premessa, Allegri alla Juve ha avuto un credito indefinito che in abbinamento alle dimissioni nel 22 del CDA, nella stagione 22, è proiettato come uomo forte del club. Un manager tutto a fare, ragazzi dell'area sport. Cioè, era lui che aveva potere. Vi ricordate, ci fu anche l'endorsement dello stesso John Elkan. In questo momento il responsabile dell'area tecnica è Massimiliano Allegri. Questo ha creato una situazione non facilmente governabile, dato che lui rimaneva, rimane, un manager. Questa situazione dura fino a scorso giugno con il nuovo direttore sportivo. In realtà a luglio, perché poi arriva a luglio, in realtà Cristiano Giuntoli. Da subito si capisce che Allegri si è appunto smarcato da questa situazione. È la tipica situazione dove chi comanda rischia di bruciarsi per le seconde linee che non procedono compatte, ma perseguono l'attività definita improprio. Ovvero, cosa ci dice Frank? Giustamente Giuntoli entra in sordina e non impone una rivoluzione e un cambio a passo, perché quello là ha ancora un potere indefinito, no? Dato da John Elkan. Le seconde linee, ovvero i Manna, i Cherubini, tutti quei dirigenti, hanno continuato quel filo programmatico là e andare a rivoluzionare quel filo programmatico. Poteva portare a un bruciare la propria posizione ed è per questo che Giuntoli entra e si adegua a questo flusso di lavoro senza comandarne la posizione, senza essere al timone realmente. Andiamo avanti. Esempi vari sono la gestione di Alcarazzo e Gialò, le ripetute lamentele a mezzo stampa verso la società, lo scarico di responsabilità. Succede anche ieri sera quando parla di necessità di sedersi a programmare. Il sottotesto è Resto se risponderete ai miei programmi. Cioè lo dice Allegri. A fine anno c'è bisogno di sedersi a programmare. Quindi resto se risponderete a quel che voglio io. Allegri, sull'eventuale sua permanenza. Cosa dice Frank? Postura che in geopolitica sarebbe applicabile a due stati che si stuzzicano ma non vogliono un'escalation immediata, non vogliono il conflitto a fuoco subito, non vogliono innescare una guerra, eccetera. Allo stesso tempo però vogliono risultare vincitori. Cioè Allegri vuole scongiurare il rischio di essere esonerato ma semmai vuole apparire come quello che non viene mai soddisfatto dalla società. E Giuntoli? Beh, Giuntoli dice Siamo molto contenti del mister. Sta facendo un gran lavoro. Che è una frase di circostanzia che non significa niente. Perché se la dicesse veramente sul serio, come dice Frank, cioè vanno là e gli devono la licenza. Soprattutto visto questa seconda parte di stagione. A fine anno programmeremo, lavoreremo per programmare il futuro insieme. Il mister ha un anno di contratto e siamo contenti del suo operato. Non c'è bisogno di un rinnovo di contratto. Ora siamo concentrati sui nostri obiettivi. A fine anno programmeremo il futuro, che non significa nulla. Perché come fu detto tempo addietro, disse le stesse identiche cose per Manna. Manna che adesso è al Napoli. Per cui, sono frasi di circostanza. Il mister ha un anno di contratto e siamo contenti del suo operato, della serie. Ma vista la serie di guerre, intestine che ci sono all'interno della Juve, non c'è bisogno di rinnovo di contratto, dice tutto quel che doveva dire. Non c'è bisogno di rinnovo di contratto. Non c'è voglia di continuare insieme. Allegri è uno che intanto non rimane con un anno di contratto e c'è l'intenzione di separarsi ragazzi. In questo momento stanno cercando di tenere una certa unità di intenti per ottenere quello che è l'obiettivo reale, la qualificazione in Champions. Io non ho letto nelle parole di Giuntoli, né sentito nelle parole di Giuntoli, salvacondotti, collaborazioni, intenti particolarmente specifici per l'anno prossimo. leggo l'intento di un direttore sportivo di tenere bassa la tensione interna e ragionare su quello che è il presente. Poi vi ricordo che comunque Allegri è un allenatore che quando c'è da sgolarsi a mezzo stampa, davanti a chiunque, capirete che dall'altra parte non ci può essere un direttore sportivo che va a innescare un conflitto ulteriore vista la situazione. Quindi il club va tutelato, il club deve raggiungere quelli che sono gli obiettivi, la qualificazione in Champions e questo è l'obiettivo principale, primario e del direttore sportivo. Per cui non aggiungere il carico da 90 creando strappi o potenziali strappi a mezzo stampa, ragazzi, la trova una mossa corretta dal punto di vista geopolitico della situazione. Geopolitico perché è una gestione di un conflitto interno. E quindi vedrete che quando andrà via Allegri ci sarà la tranquillità, ma non dovete andare in psicosi da permanenza di Allegri perché vedo gente che impazzita, che sclera. Cosa deve dire Allegri? Cosa deve dire? Giuntoli prima di una partita di questo calibro. Allegri fuori? Dittemelo, cioè mi dite voi che la comunicazione non va bene. Cosa deve dire? Pensate anche alle potenziali conseguenze. Perché non è quello che va bene a noi, significa che va bene alla situazione se adatti alla situazione. In questo momento per la situazione che è c'è stata una linea programmatica. Tidiamo, Allegri fino a fine stagione e poi fine, finirà tutto. Raggiungiamo gli obiettivi e via. Perché? Perché la soluzione di mezzo probabilmente non accontentava la società in quella che è la programmazione futura. Cioè un traghettatore non è stato mai valutato. Figure pronte subito non ce n'erano. C'è l'intenzione della Juventus di prendere Tiago Motraga, non prendiamoci in giro. Senza girarci tanto attorno. E lui, l'obiettivo numero uno è fine. E questo è. Per cui c'è già aria di burrasca. Bisogna aspettare che questa situazione un po' si placchi. E un direttore sportivo che va a dire queste cose lo trova un direttore sportivo responsabile. Che non va a innescare ulteriori situazioni pericolose. Quindi bisogna essere sempre un po' equilibrati nei giudizi, ragazzi. Perché il giorno del giudizio per Max Allegri non è oggi, non sarà col Milan, non sarà con la Roma, non sarà con la Lazio. Sarà fine stagione. Per cui calma e gesso. Ok? Ciao belli! Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti e grazie a Frank perché mi ha reso la vita facile, diciamo, in questo video. Altrimenti avrei dovuto rielaborare il video secondo le mie opinioni che sono le stesse, ma con altri tipi di spiegazione. Frank è stato abbastanza chiaro ed esaustivo. Un abbraccio! Grazie! 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 Grazie!